Il candidato del centrodestra doveva essere Mariella Iommi e non Enea Dianni, a dirlo il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Marco Picini, che col senno di poi parla di scelta sbagliata. La candidatura della Iommi, afferma, avrebbe rappresentato la novità al femminile che a conti fatti, essendo stata la donna più votata, avrebbe portato risultati soddisfacenti. Sicuramente noi abbiamo pagato come Fratelli d'Italia le spaccature che ci sono state all'interno del PDL. Sul tavolo non c'è stata un'unione di intenti, il PDL era completamente spaccato e oggi, forse col senno di poi, probabilmente dovevamo avere il coraggio anche noi di spaccare definitivamente il tavolo come Fratelli d'Italia, andare autonomamente nella scelta del candidato sindaco e proporre, quello che era stata una mia scelta iniziale, la figura di un candidato sindaco donna, che sarebbe stata una novità per la città di Sulmona. Parlo ovviamente dell'avvocato Mariella Iommi, che poi si è vista anche nella consultazione elettorale, è stata la donna più votata di Sulmona. Quindi col senno di poi, probabilmente, forse questo è l'unico errore che abbiamo fatto. Fratelli d'Italia valora la tesi grazie al risultato raggiunto che ha fatto registrare al partito di Meloni e la Russa 867 voti di lista e gli ottimi consensi da parte di Mauro Tirabassi, secondo più votato in assoluto, e della stessa Iommi. Picini ringrazia pertanto gli elettori ed i 16 candidati della lista che hanno contribuito, dice, all'ottimo risultato, con un incremento del 67% rispetto al 3,65% di voti ottenuti alle elezioni della Camera dei Deputati, cioè una crescita rilevante rispetto anche a comuni di altre regioni. Abbiamo avuto i complimenti dell'onorevole Giorgia Meloni e degli organismi a livello regionale. Immediata la replica di Enea di Anni, che non condivide un'analisi separata tra le due liste, e sminuisce l'enfasi sul risultato di Fratelli d'Italia, che ha ottenuto voti anche grazie a me, sostiene l'ex vicesindaco, che aggiunge, se mi vogliono far pesare che non ho voluto apparentarmi con il PDL, non permettendo in caso di vittoria l'ingresso in consiglio di Tirabassi, non è assolutamente vero perché Luigi Lacivite ed anche gli altri non mi hanno chiesto nessun apparentamento. Se fossero giunte richieste non avremmo comunque accettato lo stesso, perché con il senno di poi diciamo che abbiamo fatto bene, in quanto il successo del centrodestra non c'è stato. Per Fratelli d'Italia le elezioni amministrative devono rappresentare ora l'inizio di una sfida in vista delle regionali. Oggi in questo momento come Fratelli d'Italia abbiamo solo un unico obiettivo, operare per lavorare per Fratelli d'Italia, per un nuovo centrodestra, visto che purtroppo il PDL, anche con i vertici regionali, non ha portato nulla di buono per questa città. Gli auguri di buon lavoro infine da parte di Marco Piccini a Peppino Ranalli, ricordandogli che il vero vincitore è stato l'astenzionismo, auspica che il neosindaco senta su di sé la responsabilità di riavvicinare i sulmonesi alla politica. Siamo disponibili sin da ora, conclude, ad intraprendere un rapporto di fattiva e proficua collaborazione per gli interessi esclusivi della nostra amata città. Sul fronte centrosinistra invece sembra essere in dirittura d'arrivo l'aggiunta che dovrebbe essere pronta a metà della prossima settimana. Si sta ancora discutendo sui nomi. L'unica certezza per ora sembra quella dell'assessorato a Luciano Marinucci che dovrebbe assumere anche l'incarico di vice sindaco. Ieri sera intanto incontro tra il sindaco Ranalli e tutti gli eletti in maggioranza per mettere a punto l'organizzazione da affrontare per il lavoro in consiglio e nelle commissioni.